Un caffè che vale, espresso scende moca sale Ben ritrovati al nostro caffè, ogni settimana ve ne offro uno I caffè in Italia sono uno diverso dall'altro per definizione e meno male perché questo è il carattere del popolo italiano Un caffè che vale, si chiama questo nostro talk vi racconta l'Italia che vale nella quale noi crediamo che non è uno slogan ma è una sorta di manifesto culturale ci crediamo, la vogliamo raccontare, personalmente ho provato a fare di questo lavoro una missione per raccontare l'altra Italia quella non seduta sulle cose che non funzionano ma come dire, in giro, in movimento per raccontarvi le cose che funzionano perché le cose che funzionano ci sono ma bisogna saperle trovare e guardare Oggi andiamo a Cagliari in Sardegna dove ci aspetta un editore che ha rimesso in piedi una libreria storica e che ha fatto all'interno di questo modulo delle cose davvero controcorrente dimostrando che si può attraversare il mare magari dalla sua Sardegna all'Italia, al continente ma anche solo con una zattera che è il nome anche della sua casa editrice davvero un giovane, solo 33 anni che però ha un'esperienza incredibile e che oggi ci insegnerà qualcosa su come bisogna attraversare anche solo, appunto, su una zattera questo momento di difficoltà che stiamo vivendo a dopo la sigla con Alessandro Cocco Ben trovato Alessandro Buon pomeriggio a tutti Alessandro ha una storia molto bella perché è una storia di andata e ritorno è una storia di, se vogliamo, di smarcamento dai genitori tipico ok, voi fate cultura io faccio culturismo poco fa quando mi raccontavi in anteprima questa storia ho pensato, ecco, al dolore, tra virgolette dei tuoi genitori ma penso che l'avevano già vista lunga perché i genitori certe volte devono lasciare andare perché lasciare andare è il modo migliore per tornare allora Alessandro, partiamo da qui dall'Alessandro giovane che lascia la Sardegna e a Proda Milano la storia di Alessandro inizia a sette anni quando la maestra dell'elementari disse ok, il tema di oggi è questo scrivere che lavoro vuoi fare da grande bellissimo quindi tutti insomma, no, sette anni io da grande voglio fare l'astronauta io da grande voglio fare il giornalista da grande voglio fare l'avvocato insomma, tutte queste cose qua la mia risposta fu io da grande voglio assolutamente prendere il posto di mio padre in azienda quindi ero quindi nasco con le idee piuttosto chiare perché ero, come dire, molto affascinato da quel mondo all'epoca raccontiamo che azienda qual è l'azienda di papà perché fin qui ancora non l'abbiamo detto la libreria Cocco all'epoca tra l'altro quella fu la prima libreria in generale aperta in Sardegna nel 29 da mio nonno che partì lui nel 29 dopo un diploma dopo una maturità classica presa nel 26 aprì la libreria Cocco mio nonno ebbe 10 figli tra l'altro creò un'impresa piuttosto solida e robusta che dava da mangiare il che vuol dire che non leggeva abbastanza insomma scherzo Alessandro era l'epoca però un grande uomo generoso un positivo insomma no? assolutamente sì era assolutamente sì un imprenditore comunque davvero non era proprio un libraio fine a se stesso era davvero un imprenditore creò un'impresa ripeto che dava da mangiare a 40 persone wow super nonno si chiamava Alessandro come te si chiamava Giovanni Giovanni Cocco dopo di lui negli anni 80 ovviamente vennero divise le varie i vari rami d'azienda nonno ebbe 10 figli uno di questi era mio padre e lui anche lui continuò l'attività di famiglia insieme ai fratelli quindi diciamo che io nasco nel 1988 88 quindi ho 33 anni e nasco in quel contesto che a me piaceva tanto perché davvero era un luogo molto affascinante molto come dire sembrava quasi magico entrare lì era un un si respirava un'epoca ma ho sentito bene una libreria che dava da lavorare a 40 persone eh sì e cosa facevano questi 40 era una una libreria piuttosto strutturata aveva un un grosso un grosso appunto vendita e anche un altro aveva poi da una parte i magazzini in un altro edificio gli uffici della ragioneria e la logistica quindi si occupava di tutto ed era anche esclusivista per moltissime case editrici di libri scolastiche per cui riforniva anche tutte le librerie sarde di libri scolastiche accidenti al nonno complimenti complimenti wow era veramente un'impresa interessante quindi nasco così io a sette anni avevo le idee chiare eh diciamo già dall'età di dieci anni undici anni con mio padre guardavo eh libri di business business plan queste cose qua perché a me piaceva tantissimo capire di queste cose non non è che sono stati proprio loro cioè i miei genitori a introdurmi in questo ero io curioso loro invece dicono ma no ma divertiti ma che caspita eccetera eccetera mi divertivo eh però mi piaceva succede poi che la vita a volte diciamo prende delle direzioni differenti e ripeto una grande impresa tante persone la terza generazione cioè quella dopo di mio padre io ero ancora minorenne invece non forse non all'altezza dei tempi cambiati eccetera eccetera il sogno purtroppo si spezza e quindi riescono a fare una cosa ancora più difficile di quella che ha fatto mio nonno cioè distruggere quello che ha fatto lui che è assurdo comunque non mi persi d'animo questo lo devo sicuramente anche ai miei genitori che mi dicano vabbè ma non ti preoccupare adesso tu finisci gli studi e poi dopo fai quello che ti senti e magari noi ti instradiamo e poi sei tranquillo io dico vabbè ok insomma diciamo che dalle cose negative cerco sempre di trovare il lato positivo e di rialzarlo però la vita mi dà la seconda batosta quella forse definitiva e che ha fatto sì che poi successero tante cose purtroppo la seconda batosta è stata quella poi di ritrovarmi senza padre purtroppo perché poi insomma per via di una malattia se n'è andato per cui ho detto caspita avevo 17 anni e mo? cioè quando tu hai diciamo strutturato la tua vita pensando di fare una cosa ti ritrovi 17 anche senza anche quell'azienda non è facilissimo allora dentro di me ho detto beh allora non posso di certo aprirmi un'attività così da solo eccetera eccetera non ho neanche le competenze le basi eccetera eccetera cerchiamo di capire cosa potrei fare considerando che comunque ero un appassionato sempre di impresa comunque mi piace l'idea di creare qualcosa di mio dico va bene finisco gli studi e poi dico ah mi piace la sala pesi io andavo in sala pesi mi allenavo tantissimo ho detto ma perché no potrei incominciare a lavorare così sei partito praticamente dalla classica passione giusto? sì sì così e quindi tra i 18 e i 19 anni prendo i primi titoli incomincio a insegnare in qualche palestra di periferia che comunque è servito tantissimo a introdurmi da lì l'appetito via mangiando e ho detto ma caspita ma se studiassi sul serio mi specializzassi potrei addirittura diventare un professionista che è un'altra cosa quindi la mia partita quindi faccio quegli studi do una marea di esami prendo una serie di specializzazioni mi ritrovo a 22 anni essere un giovanissimo personal trainer con la sua autonomia e con i clienti che incomincio a seguire singolarmente o nelle varie palestre o anche a casa loro ecco aspetta aspetta questo è interessante questo passaggio perché tu lo dici con semplicità dobbiamo riavvolgere un po' il nastro in che che anni erano 90 primi 90 giù di lì io avevo 22 anni e quindi era il che anno era il 2010 ah ecco esistevano già i personal trainer perché insomma fare il passaggio da semplice voglio dire professionista che segue nelle palestre tipicamente i clienti a pensare di poter diventare un personal trainer è un bel salto no? eh sì l'ambizione non era mai troppa e quindi comincio quella carriera lì e devo dire con notevole soddisfazione come funzionava cosa facevi quali erano i bisogni che andavi a soddisfare per capire chi è un personal trainer? allora avevo diversi tipi di clienti la differenza sostanziale rispetto a un istruttore ad esempio che chiunque ad esempio va in palestra e un istruttore diciamo ti dice come utilizzare gli attrezzi ti fa le cosiddette schede che più o meno sono simili e questa è una cosa per il cliente più esigente che infatti non paga la palestra paga a te allora è un discorso diverso tu devi conoscere esattamente il cliente la sua composizione corporea siamo tutti diversi non è che dici vabbè per dimagrire corri per ingrossare fai peso no siamo tutti diversi siamo tutti con dei propri punti di forza e punti di debolezza tutti con muscoli più o meno sviluppati e tutti con degli obiettivi diversi che vogliamo ottenere senza contare anche eventuali problematiche posturali che ci possono essere ecco perché lì vai a fare un'anamnesi completa del cliente lì la responsabilità è tua e allora sulla base del risultato che voglio ottenere della condizione in cui parte e delle caratteristiche che ha vai a fare come un sarto un lavoro su misura fantastico ci riuscivi Alessandro immagino di sì intanto parliamo di Milano 2010 a Milano tu entri in questo mercato e cresci dentro questo mercato riesci ad avere anche clienti importanti beh importanti diciamo che sicuramente clienti abbastanza altospendenti anche perché un personal trainer non costa poco quindi sicuramente magari non famosi però sicuramente anche imprenditori di un certo tipo e quindi mi creo quella realtà ero abbastanza soddisfatto da ogni punto di vista il discorso è nel 2012 qualcosa dentro di me io avevo 24 anni nel 2012 mi mi lasciava insoddisfatto era qualcosa che non che quasi non capivo diciamo ma perché insomma eppure eppure insomma sono così giovane eccetera eccetera ho certi risultati però dentro di me sapevo che il mio obiettivo di vita era un altro io avevo quella nostalgia non di casa casa intendo come proprio attività per me quella era quel progetto che avevi visto magnifico da bambino e che ti aveva fatto scrivere in quel tema io da grande voglio fare quel lavoro lì era quella bravissima e poi il mio motto è sempre stata la tenacia no? sempre è stato quello di farcela prescindere quindi dentro di me dicevo caspita sì io sono giovane ma un domani no? avrò dei figli a questi figli prima o poi loro mi diranno ah ma tu quali erano i tuoi sogni eccetera eccetera e che cosa mi vado a insegnare se sono poi io il primo a non averci neanche provato wow questo è un concetto Alessandro straordinario è un concetto di responsabilità no? che torna spesso nei racconti degli imprenditori che ce la fanno cioè l'idea di insegnare non con le chiacchiere ma con l'esempio no? così per cui faccio una cosa che penso qualsiasi madre lo dico per scherzo spera di non dover mai affrontare decido di punto in bianco di tornare a casa mi licenzio e quindi torno a casa e dico a mia madre ciao ma ti volevo dire che mi sono licenziato lei tra l'altro mia madre è sempre stata mia grande fan e grandissima fiducia quindi un po' la vedo che barcolla però dice vabbè conoscendoti sicuramente hai un'idea ancora più grandiosa io sì sì devo aprire la mia libreria ecco lì mia madre probabilmente sviene lei mi dice ma sei sicuro perché non è facile sono cambiate le cose come facciamo eccetera quando ha visto la mia determinazione disse mia madre guarda sarò il primo a fare indagini di mercato a vedere tutte queste cose qua è sempre il primo a fare un passo indietro se vedo che è una stupidaggine o una mossa avventata e ti dirò anche che partirò da zero come se non avessimo mai avuto una storia mai una libreria una catena di librerie importante e lo farò da solo allora lei vista la mia determinazione mi dice benissimo allora io sarò farò il tifo per te quindi anche questa carica mi mi portò a nel giro di pochi mesi ad avere la mia libreria prendo inizialmente un piccolo locale tra l'altro di fronte al tribunale di Cagliari decisi che secondo me secondo un'indagine di mercato era bisognava partire intanto con qualche specializzazione quindi differenziarsi dall'ormai come dire esagerata esagerato numero di librerie che c'erano ormai i libri si trovano ovunque quindi ci doveva essere una specializzazione ci doveva essere poi una preparazione altissima sul prodotto che doveva differenziarti dagli altri e anche ovviamente da internet che se vogliamo è una realtà obiettivamente forte e comoda però su internet tu ordini quello che sai già che esiste se invece noi diciamo sì da me non solo trovi quello e anche le alternative io te le faccio notare e ti faccio anche notare i punti di forza e magari creo il libro adatto all'esame che devi superare ad esempio questo fa la differenza quindi di nuovo quello che avevi imparato passami il termine nel lavoro nel lavoro di personal trainer lo porti nel mondo del libro c'è un approccio sartoriale al rapporto col cliente in maniera scherzosa l'abbiamo chiamato il personal book trainer bellissimo è fantastico non sai quanto sono felice perché questo stesso approccio è quello che stiamo mettendo nel realizzare queste storie per far capire che se ti metti da solo davanti a un telefonino puoi schiacciare qualunque tasto però non è l'approccio giusto per raccontarti nel senso il giornalista serve come serve il personal trainer come serve il personal book trainer quindi basta con questo disintermediare con questa tutologia esattamente parto così parto davvero si può dire da solo anche nella semplice consegna dei volantini per far conoscere e far scoprire le persone che stavamo tornando e cosa succede Alessandro cosa succede perché poi un giorno questa storia la racconteremo ancora più nei dettagli però mi serve qui capire via via ecco da questa ripartenza straordinaria per cui tu torni e vabbè hai memoria di quello che era stato fatto da tuo nonno e tuo padre ma di fatto è una ripartenza da zero no? Da zero cosa succede appena parti e le prime reazioni che ti convincono che la strada è giusta insomma i primi successi succede che come riapriamo vedo una bellissima risposta da parte dei cagliaritani non solo che venivano proprio a congratularsi a ringraziarci ringraziarmi addirittura di aver fatto questo incomincio a come dire a lavorare sul negozio dove ripeto parto in piccolo ogni guadagno minimo veniva reinvestito sul negozio stesso un passo alla volta su nuovi scaffali su nuove cose fino a decidere di reinvestire ogni anno in ampliamento di settori quindi poi ci specializziamo nel settore universitario e poi dopo nel settore scolastico e poi dopo nel settore sardo romanzi addirittura sono il più fornito in Sardegna di libri per buddisti perché io ho sempre studiato col mercato e ho visto caspita è pieno di buddisti tantissimi ma non ci sono libri libri senti io sono calabrese lo dico ogni volta che posso siamo due milioni di anime in Calabria penso che un'altra regione dove non siete tanti è proprio la Sardegna quanti siete in Sardegna? un milione e sei e tu riesci a trovare la supernicchia cioè i buddisti piuttosto che da tutta la regione immagino anche studiando ho detto benissimo in Sardegna allora in Italia dopo Torino la città con più appassionati di esoterismo è Cagliari wow perfetto creiamo un intero scaffale allora di libri specializzati per loro e quindi abbiamo creato anche questo quindi tutto questo ha fatto sì che si creasse un afflusso nonostante anche lì la giovanità e qualche soddisfazione decisi in quel periodo per tutti i primi anni né di come dire avrei potuto farlo comprarmi una bella macchina nuova o sull'ultimissimo cellulare o fare grandi uscite no rinvesto sempre tutto nel miglioramento della società dell'azienda incomincio poi dopo a a capire anche che era importantissimo anche utilizzare ad altissimi livelli il marketing ecco che quindi affido l'azienda a un'impresa proprio di marketing che mi seguiva le pagine social i video pubblicitari che potrete vedere e che tra l'altro sono tutti girati dal sottoscritto e interpretati dal sottoscritto incredibile incredibile Alessandro incomincio anche lì a entrare in tutti in tutte le associazioni possibili immaginabili di categoria non solo per farmi conoscere il più possibile ma per apprendere apprendere anche dagli altri le storie degli altri capire sempre quali sono le esigenze quindi passo tutti i primi anni così incomincio ad assumere come dicevo anche i primi i primi collaboratori l'azienda cresce e poi faccio il primo investimento importante nel 2015 che era investire tutto sull'aprire la casa editrice la zattera perché la zattera perché la zattera c'era ai tempi di mio nonno una casa editrice la sua che si chiamava così la zattera quindi io l'ho voluto fare e all'epoca pubblicava i libri dei più importanti storici sardi io ho voluto farlo con questo nome sia come dire per dare un omaggio a lui e al tempo stesso anche come metafora pensa un po' in un periodo al di là della crisi dove gli scrittori navigano su un oceano infinito di niente se vogliamo perché poi quanti scrivono e quanti poi dopo vengono presi in giro o vengono pubblicati a pagamento insomma alla fine non ha senso e allora l'unica cosa che ti potrebbe salvare se tu sei in mezzo al mare è appigliarti ad una zattera fantastica metafora fantastico bravo che non è fare grande cose non stiamo parlando quindi del grande trasatlantico stiamo parlando di qualcosa di più umano ecco qual era la diciamo la metafora che c'era dietro quindi creo la casa elettrice specializzata nella pubblicazione tra l'altro anche lì ovviamente totalmente a spese nostre cioè siamo noi che investiamo sull'autore quindi ci arrivano libri di più argomenti che può essere dal romanzo al noir al giallo all'esoterico qualsiasi cosa e dopo che io convoco anche gli autori personalmente perché ho bisogno di guardarli negli occhi se vedo che quel libro può avere un suo perché e non solo perché è ben scritto ma perché magari in quel momento il mercato lo richiede ecco che allora io investo sull'autore Alessandro ma lo sai che quanti anni hai Alessandro? 33 ecco mentre ma a parte che insomma è un'età voglio dire probabilmente è una coincidenza iconica questo 33 insomma già però voglio dire mentre tu parli io penso che Alessandro è iper giovane ma è anche iper vecchio ma vecchio nel senso nel senso più bello del termine nel senso che cioè rappresenti un'Italia che non c'è più perché stai toccando una serie di elementi che fanno capire quanto veramente nel provare ad essere finti innovatori abbiamo perso di vista quelle che erano le nostre forze migliori ecco mi ha colpito adesso di te Alessandro questo conservare l'idea di fare scouting del valore che non lo fa più nessuno cioè è un mondo ormai un paese che lavora tantissimo sul copia e incolla e vorrebbe guadagnare senza fare niente senza trovare nessun talento vale nel cibo vale nell'editoria vale nella televisione vale dappertutto lo dico in maniera così forte io sono molto arrabbiato ed è una delle battaglie ma è una rabbia positiva una delle battaglie che col caffè che vale e con l'Italia vale stiamo cercando di fare chiaramente non a caso in lire e dentro questa narrazione perché io ritengo quello che ha fatto Romi e che state facendo voi come associati davvero vera vanguardia cioè l'idea di rimettere al centro le cose di valore quindi complimenti cioè ha prodotto qualcosa questo passare delle ore ad ascoltare le persone e vedere se avevano qualcosa da dire domanda provocatoria allora 27 anni ho aperto la casa editrice quindi 6 anni fa al momento abbiamo pubblicato 52 libri quindi non pubblico chiunque pubblico solo quelli che secondo me funzionano e a ognuno di loro tutti i miei autori io do una loro identità nel senso che non sono un nome e un cognome scritto nella prima pagina del libro voglio davvero se secondo me sono dei talenti che vengano proprio riconosciuti ecco perché do loro molto spazio lavoriamo come se fossimo un'unica grande squadra che si chiama la ciurma la zattera dove c'è molta veramente complicità tra tutti non competizione e questo funziona devo dire che al momento la casa editrice già dopo un anno era distribuita in tutte le librerie sarde e da due anni a questa parte in tutte le principali librerie italiane abbiamo partecipato ecco facci qualche nome mi stavi per anticipare rispetto alla domanda ma è perfetto qualche nome di alcuni di questi nomi che tu hai selezionato e li hai portati come fa un bravo coach un bravo consulente verso un risultato ecco i risultati di cui sei più orgoglioso tu conta che ogni anno siamo sempre al salone di Torino e anche al salone mondiale di Francoforte e porto anche i miei autori con me posso dire davvero tanti tanti nomi di tanti di loro che ognuno di loro mi ha dato delle belle soddisfazioni ti posso dire Paolo Montaldo che è stato uno dei primissimi che ho pubblicato lui mi propose 11 libri tutti uno completamente diverso dall'altro io ne scelsi uno quello che in quel momento pareva il più difficile era un libro che una storia vera tra l'altro che parlava di autismo è pet therapy bene posso dirti che questo libro ha fatto sì che Paolo anche lui con un impegno incredibile ha fatto il giro delle scuole ha fatto più di 200 presentazioni in 8 scuole è stato addirittura adottato come libro è stato il primo libro di autore sardo con editore sardo a essere tradotto pure in braille e ha venduto tantissimo e questo è uno per non parlare di tutti i premi che ha vinto e Paolo Pina Parpaglia lo stesso un altro era un esordiente un avvocato lessi questo faldone immenso che mi portò ed ero convinto che quel ragazzo aveva un talento incredibile glielo dissi lui addirittura non voleva neanche pubblicare quasi si vergognava invece pubblichiamo due libri che hanno avuto non solo molto successo ma sono riuscito a vendere pure i diritti in una di queste fiere di Francoforte a un grossissimo editore che ha fatto sì che poi veramente l'autore non dico che è diventato un autore professionista ma quasi insomma fa dei numeri pazzeschi oppure Matteo Porru mi trovavo a una festa dell'arte dove ognuno aveva un suo stand quindi io avevo il mio stand con i libri c'era chi invece dipingeva c'era chi suonava e vedo questo ragazzo ragazzino va a 15 anni vestito in giacca e cravatta e quindi dentro di me dico questo magari sarà una specie di prestigiatore magari e qui per questo invece vedevo che a ogni passante dava qualcosa mi avvicino perché ero curioso a tutti questa sembrava una brochure rinforzata mi avvicino e lui mi riconosce addirittura diceva ma tu sei Alessandro Cocco quello della libreria della casa elettrice io rimango colpito perché mi conosci tu perché perché io ti seguo seguo moltissimo quello che fai eccetera eccetera mi piace mi piace scrivere ah bene e cosa sono queste cose qua questi sono dei libricini che io ho scritto erano una decina di libricini che ho scritto e li sto regalando a tutti per il puro piacere di farlo e lui dico bene ma non è che posso averne uno anche io allora lui dice sei quale vuoi guarda il tuo preferito e lui mi dà questo libro un libro di 30 pagine libricino che si chiamava The Mission scritto da lui quando aveva 8 anni no incredibile ed era credimi fortissimo al di là della capacità di scrittura per l'età e non solo la storia mi ha lasciato piuttosto scosso perché parlava di un bambino di 2 anni che ha avuto un bruttissimo tumore e per 10 anni ha fatto il giro dell'Europa per cercare di curarsi e nel mentre però nei vari stati imparava la lingua eccetera eccetera quindi mi avvicino da lui e dico complimenti ma come mai una storia così forte così esagerata la tua età eccetera eccetera ma perché quello è il mio libro autobiografiche allora l'ho capito che avevo di fronte a me una persona veramente talentuosa e molto forte d'animo ormai lo sappiamo tutti al giorno d'oggi se a casa vuoi bere il caffè puoi scegliere fra tante possibilità puoi comprarlo in cialde in capsule in grani macinati solubili cambiano i sistemi ma la cosa importante per noi di 101 caffè è una fare di ogni sorso un viaggio ma questo è napoletano guarda tu sei in coppa o pesuglio vero mi ricordo pure la formazione Napoli Scudetto garella Bruscolotti Ferrara bagni Ferrario Renica Maradona ti è venuta voglia di un buon caffè? vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita o continua a navigare nel nostro sito per acquistare il tuo caffè ideale 101 caffè liberi di scegliere fantastico Alessandro guarda è passato più di metà del programma e non ce ne siamo accorti perché ognuno dei tuoi aneddoti è una storia che si capisce vissuta voluta cercata questo è davvero quello che oggi serve al paese questa è l'Italia migliore che noi dobbiamo raccontare ti ringrazio voglio in questa parte finale del programma ma poi torneremo su queste storie ne racconteremo ancora e chiederti ecco come hai incrociato Inlire perché oggi sei ospite di questo Inlire Talk che cosa ti ha colpito di questo di questo circuito cosa ti ha fatto dire di sì e quali sono state le prime esperienze che ti hanno confermato questa scelta allora è semplice molto semplice a parte che credo che qualsiasi imprenditore debba fare sempre due cose come minimo uno innovarsi sempre sempre stare al passo coi tempi in generale qualsiasi lavoro faccia la seconda cosa questa intanto segnate segnatevela deve sempre creare creare più opportunità possibili non a se stesso oppure non solo a se stesso ma ai suoi clienti per cui se tu vuoi venire da me non posso per forza ad esempio venderti quel codice civile di quella casa editrice perché se tu ti trovi bene con un'altra sono io che devo essere adatto a te non il contrario questo è un principio guarda sottoscrivo questo è un po' è uno dei miei mantra no e quindi guarda quando lo sento mi viene dico wow eccoci c'è gente che pensa così meno male perché spesso lo sport più praticato è quello opposto vai scusami eh certo non è che devo decidere io dire ah no allora qua però puoi pagare solo in contanti no puoi fare quello che vuoi perché soltanto se ti senti davvero che questa è anche casa tua allora le cose funzionano grande Alessandro veramente c'è c'è la sintesi no pratica di quello che sta accadendo a tutti noi hai detto la prima cifra è la curiosità essere innovatori certo prendersi qualche rischio perché da innovatori lo sappiamo che qualche caduta c'è ma l'importante è non farsi cambiare dalle cadute anzi farsi rafforzare l'inizio della tua storia ha parlato proprio di cadute e non è un caso che tu oggi sei così a fuoco cioè quelle cadute ti hanno insegnato tanto no eh beh assolutamente sì senti prospettive già ci hai parlato di tante belle idee ecco le cose più calde che bollono in pentone che ci possiamo aspettare chiamandoti da associati in lire ma anche rispetto a tutti gli altri che ci stanno guardando e magari troveranno proprio per conoscere te la voglia di diventare eh di entrare nel circuito in lire io ne ho due che agli imprenditori faranno impazzire vai vai la prima la io a parte che credo al momento in generale di non aver realizzato più del 20% di quello che ho in testa quindi figurati siamo in due siamo in due siamo in due anche se sono un po' più avanti nell'età continuo a sentirmi almeno della tua età benissimo uno è lo sviluppo a livello nazionale e già lo stiamo facendo della casa elettrice top player si chiama così questa è un'altra cosa questo è proprio un servizio per l'imprenditore quindi c'è l'imprenditore X che ha la sua azienda noi gli scriviamo il libro della sua azienda proprio lo realizziamo noi e non è una biografia tanto per è un libro che parla proprio del suo modus operandi ed è scritto per i suoi clienti e i potenziali clienti che leggendolo si innamorano di lui capiscono quello che fa ancora meglio perché è scritto davvero in maniera molto particolare e vi voglia loro di essere clienti suoi ovviamente poi questo lo posiziona moltissimo nel mercato immaginati li scriviamo nel libro lo realizziamo lo distribuiamo ovunque in tutte le librerie caspita se non è un bel progetto questo quindi questa è già la prima cosa abbiamo già realizzato dei libri di imprenditori davvero interessanti e di successo guarda l'abbiamo fatto anche noi fino a qualche tempo fa avrei detto accidenti un competitor un concorrente adesso sono a caccia di concorrenti perché li vedo gli alleati più grandi no? dico se stanno in un settore dove ci sei già tu a parte che se guardi in profondità ti rendi conto che probabilmente fanno cose anche in maniera diversa da come li fai tu e a partire da quella diversità puoi creare una complementarietà che fa la partita in quel settore perché dico le vere minacce sono distanti da noi e non vicine a noi quindi su questo poi facciamo due chiacchiere ok bene Alessandro ce ne hai svelato un pezzo senti che aria tira in Sardegna siete stati insomma gli unici ad essere bianchi come è stato per un po' essere bianchi bene è come quando tu segni il gol e poi dopo il guardalini alza la bandierina ci rimani così è che ti devo dire ci sta però bisogna purtroppo come dire prendere coscienza del periodo che è così dobbiamo cercare di in un modo o nell'altro sia di stare davvero attenti a non peggiorare la situazione dobbiamo sicuramente farci forza a null'altro e nel mentre cercare di operare comunque il più possibile cercando sempre di trovare delle soluzioni per andare avanti e poi quando sarà il momento esplodere più che mai senti la tua è un'azienda che ha dimostrato una tornanza intanto perché sei rientrato nella tua Sardegna due volte perché hai riacceso un progetto che era già nella testa di tuo nonno ma anche di te bambino ecco noi eravamo già dentro una rivoluzione industriale tu sei stato bravissimo perché hai interpretato il globale il digitale in maniera incredibile poi è arrivata la pandemia qualcuno hanno anche se i problemi veri ci sono però troppi problemi anche economici sono stati fatti passare come esclusivo effetto della pandemia abbiamo ancora pochi minuti ma se vogliamo incoraggiare chi sta dall'altra parte su cosa devono accelerare i nostri amici imprenditori le partite ive i commercianti che hanno diritto io sono fra quelli chiaramente a dire insomma siamo in mezzo alla burrasca è un momento difficile però ecco su cosa devono lavorare in queste ore per trovarsi nella condizione giusta appena usciremo da questa da questa crisi guarda non ci sono teorie grandi teorie grandi consigli poi ognuno ha la sua realtà ognuno poi sa in casa sua eccetera eccetera ma su una cosa sono convinto e sicuro è che è l'unione che fa sempre la forza io posso dire la mia esperienza caspita anche per me è stata durissima quando l'anno scorso c'è stato il lockdown io quindi avevo un lockdown tutte le mie attività e anche il personale da mantenere insomma eccetera eccetera quindi non solo al di là delle strategie mi sono inventato il book libero cioè con la consegna dei libri a domicilio e addirittura in Sardegna fatta con i corrieri in bicicletta antinquinamento a parte queste cose simpatiche la vera forza è stata quella però di circondarmi di persone con i quali l'uno dava forza all'altro quindi abbiamo creato un gruppo tutti di un settore diverso c'era un mio amico avvocato amministrativista un altro un penalista il commercialista l'ingegnere tutti ogni giorno ci riunivamo su zoom e ognuno dava forza all'altro ognuno diceva io oggi ho fatto questo tu cosa mi consigli quindi respiravamo aria tra virgolette nei limiti del possibile positiva quindi facevamo cercavamo di rimanere lucidi perché è quello che conta quando uno rimane lucido allora prende le decisioni più sagge incomincia magari a non fare investimenti che in quel momento non ha senso fare sta un po' più attento al bilancio sia aziendale che familiare sta molto attento a tutte queste cose qua e si circonda di persone positive questo fa sì che però anche lui viene segnalato alle stesse o tra l'altro scusate devo dire che anche il circuito ha fatto la sua parte perché intanto è stato io sono entrato nel circuito proprio in quel momento figurati proprio in quel momento in quel momento ho conosciuto Romi in quel momento su zoom e in quel momento benissimo questa è una cosa in più ma tu pensa pensa che quando io ho conosciuto Romi adesso capisco il perché me ne parlò un'amica di Napoli e Romi stava in Sardegna il giorno dopo abbiamo fatto una colla abbiamo parlato 30 minuti e forse anche qualcosa di meno ci siamo detti lui mi ha detto delle cose io altre e ci siamo detti ok partiamo ci vediamo appena rientro ci vediamo e partiamo e così è stato e mi ricordo che Romi mi ha detto sono in Sardegna magari era proprio da te guarda con Romi ci siamo mangiati due spaghetti all'astice che lui sta ancora piangendo solo ricordo abbiamo riso moltissimo guarda ci siamo divertiti davvero tantissimo probabilmente eravamo assieme bene bellissima tra l'altro è stato il primo iscritto il primo iscritto in Sardegna ah il primo in assoluto in Sardegna wow fantastico e otto delle aziende che avete iscritte le ho portate io bellissimo Alessandro davvero ci hai dato il succo il concentrato da un lato della tua storia e delle ragioni del tuo successo del tuo non fermarti mai ci hai veramente raccontato delle cose estremamente credibili pratiche questo questo serve a chi sta dall'altra parte perché la gente è molto brava oggi a riconoscere ciò che è vero e ciò che non lo è e da te è arrivata veramente tanta tanta verità e poi anche il succo e il senso del circuito oltre ad aver aggiunto un'altra cartolina straordinaria perché io dico sempre il circuito vive di queste facce cioè persone imprenditori che ci mettono la faccia che si raccontano che ti dicono quali sono le loro ragioni profonde alla fine poi scegliamo questa roba qui scegliamo storie compriamo storie come amo dire e questa storia di Alessandro Cocco da Cagliari è bellissima cioè è la bella Italia che noi dobbiamo mettere insieme e far vedere anche ai vertici a chi guida questo paese perché a volte secondo me gli manca questa Italia non la vedono stanno talmente dentro i palazzi che non riescono a capire che c'è una bellissima Italia che avrebbe bisogno davvero di poco per aiutarli a fare bene e a fare meglio e chissà che questo film non cominciamo a vederlo io ci credo Alessandro ci crede il circuito in lire ci crede tanti imprenditori in Italia ci credono dobbiamo solo farli parlare di più e vedrete che ci divertiamo perché poi l'essenza la cosa più bella dell'impresa che a volte Alessandro e chiudo alzandoti questa palla viene nascosta e che gli imprenditori quando il lavoro lo fanno con passione in realtà si divertono anche tanto no? beh guarda non voglio fare spot ma se vedete poi i video della mia pagina della libreria capirete molte cose li vedremo li vedremo perché staranno nella post produzione di questo nostro in lire talk e quindi li vedremo era solo il primo in lire talk avremo altre cose da raccontarci e poi vedremo di progettare insieme a te e a Romi delle cose specifiche molto belle perché veramente ogni giorno a mia volta scopro una bellissima Italia attraverso questo circuito in lire un abbraccio alla bellissima Sardegna al popolo sardo che è duro orgoglioso straordinario e agli italiani che vogliono essere così e che hanno voglia di crederci grazie Alessandro a presto grazie è onorato di essere stato vostro ospite grazie a tutti